Ridurre al minimo i disagi degli ammalati oncologici che devono essere trasferiti per esami o visite da un presidio ospedaliero ad un altro, in particolare tra quello di Nocera e quello di Pagani. Ci sarà una navetta, l'autoveicolo e una donazione dell'AIL, l'associazione italiana lotta alla leucemia. La consegna è in programma domenica prossima. Ringrazio il presidente dell'associazione che ha voluto donare la struttura di Nocera Pagani, questa navetta che è utilissima per il trasporto dei malati, dei pazienti da un presidio a un altro. Domenica prossima ci sarà la consegna, domenica 12 alle 11, dove ringrazierò pubblicamente l'associazione italiana per la lotta alle leucemie per questa donazione. Questo dimostra che il buon cuore delle persone, l'interessamento verso il territorio porta dei buoni frutti e noi quindi siamo grati per questo.